I due sono convolati a nozze lo scorso mese con una romanticissima cerimonia eppure queste foto sembrano rimettere tutto in discussione Nonostante i due diretti interessati abbiano commentato ironicamente l'accaduto, l'indiscrezione di una presunta crisi continua a prendere piede Anche se Filippa ha dichiarato. Sono serena, tra me e Daniele va tutto alla grande Quelle foto sono una bufala, la questione continua a far parlare di sé. Negli ultimi giorni poi il mistero si è infittito ancora di più dopo che si è diffusa la voce che Persone vicine a Filippa dicono che la conduttrice svedese non abbia molta voglia di commentare l'accaduto Se la coppia di sposini è in crisi oppure no questo ancora è da chiarire, certo è che il loro amore è solido e va avanti da 17 anni senza nemmeno una pausa Per di più, come spiegato da Daniele Bossari, durante il misterioso incontro con l'altra donna, il conduttore stava solo raccontando alcuni dettagli sulle nozze La coppia riuscirà a far placare le voci insistenti di crisi. Photo Credits Facebook, leggi anche. Filippa Lagerbac e Daniele Bossari sono in crisi. Tutta la verità La coppia riuscirà a far placare le voci, la coppia riuscirà a far placare le voci.